La Rocca Malatestiana di Fano non ha ancora terminato il suo percorso di rigenerazione. Quello che abbiamo visto fino ad oggi dopo il ripristino conservativo, l'ampliamento della capienza con la creazione dell'uscita di sicurezza ed il recupero della splendida rocchetta, non è che il punto di partenza per tutto il potenziale ancora inespresso di questo monumento storico di eccezionale importanza per la città di Fano. Nel frattempo che altri passi vengono fatti in questa direzione, un altro punto cardine per rendere vitale questo monumento è affidarlo a mani sicure ed esperte che sappiano gestirlo e valorizzarlo al meglio. L'anno scorso, dopo che il bando non andò a buon fine, l'amministrazione decise per una gestione temporanea a più soggetti che impiantassero un cartellone di spessore culturale, esperimento riuscitissimo tra l'altro dato che, benché sia stata una programmazione dai tempi minimi, comunque tutto quello che è stato rappresentato all'interno della rinnovata rocca ha subito la magia ed il fascino indiscutibile del contenitore, a cominciare dal Fano Jazz, poi io sto con i bambini e via via tutti gli eventi che hanno abbracciato l'estate fino al paesaggio incantato per bambini di questo Natale. Ora, nuovo bando e nuova possibilità per i soggetti interessati. A differenza di quello passato, il nuovo bando mostra criteri inclusivi completamente diversi ed estremamente stimolanti per gli interessati. Innanzitutto la durata, 5 anni e 5 mesi, dal 1 maggio 2018 al 30 settembre 2023, eventualmente rinnovabili per altri 3 anni. Nessun canone d'affitto e un contributo del Comune come partnership di ben 40.000 euro ed un ribasso di tutti i parametri per avere un più ampio spetto di interesse. Vince chi presenta il miglior progetto culturale e di programmazione a tutela e valorizzazione del bene monumentale. Certamente lo scorso anno abbiamo riaperto dopo 70 anni la Rocchetta, che ha bisogno ancora però di importanti restauri, ha bisogno di essere consolidata la camicia muraria verso il porto canale, dove abbiamo installato la scala di sicurezza, come ricorderete, ma anche pompe di calore per rendere più efficiente il riscaldamento della sala superiore, impermeabilizzazioni. Quindi c'è un cronoprogramma graduale a partire dalla nostra fine mandato, dove vorremmo consegnare la Rocca al meglio possibile, di tante cose che possono esaltare di più la bellezza di questo bene, facendo riscoprire anche spazi che non si utilizzano oggi per problemi di sicurezza. Mi riferisco al corridoio verde verso la ferrovia e un domani, perché no, un pensiero sul maschio, un risarcimento di un'immagine che Fano ha perso con le demolizioni dei tedeschi. Come sapete, una riflessione che potremmo fare affrontare anche con l'Università di Ferrara, che ha fatto già studi interessanti da questo punto di vista. Come sapete, come sapete.